. Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 29 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo vergine. Partner esigente e poco affidabile. Relativamente tranquilla la mattinata tra lavoro e faccende che vi tengono la mente occupata. Insidiosa però la serata, con la coppia Luna-Nettuno opposta al vostro inquilino Mercurio, lui vi vorrebbe circospetti, attenti al dettaglio, ma quando cedete al romanticismo anche voi cominciate a sognare. E così scoprite con disappunto che la vostra fiducia non è del tutto ben riposta, il partner vi racconta bugie o almeno addolcisce verità spiacevoli come lo zuccherino offerto dopo la medicina. Anche tra amici o soci di lavoro urge un chiarimento, aspettandovi troppo dall'altro finite col restare delusi. Fallito anche un tentativo di scansare una multa per eccesso di velocità, Aurano piace correre e anche la vostra mente è acuta e veloce, ma stavolta l'astuzia non basta a salvarvi. Amore in arrivo in tempi ragionevoli anche se non rapidi. Qualcosa si sta finalmente realizzando e avviando alla soluzione. Speranze appagate anche se non nel breve termine. Sarà difficile decidere oggi se accettare o meno una proposta che ha qualche risvolto interessante ma non vi convince del tutto. Se è il caso chiedete consigli a persone di fiducia. In amore non abbiate fretta, c'è tempo per ogni cosa e se qualche problema vi è stato creato, allo stesso modo si risolverà. Poche possibilità in mattinata di vedere il proprio partner, organizzategli in ogni caso una sorpresa o per la serata o per i giorni futuri. Gradirà tanto. A volte rendersi conto di stare esagerando vale più di mille scuse, siate diplomatici e accondiscendenti, almeno oggi, perché non sempre gli interlocutori saranno disposti oggi a tollerarvi. Importante IA musica. Vai a sentire un concerto di classica o jazz. Armoniosi i rapporti con gli amici e con le persone con cui lavori o studi. Certe occasioni per migliorare la vostra posizione economica si ripresenteranno a partire da oggi, se avete dei progetti o delle idee badate di confidarli solo a persone di fiducia. Date più spazio al partner nella vostra vita. Potrebbe sentirsi lasciato da parte in alcune circostanze. Ottime opportunità di risolvere piccoli problemi finanziari, magari con qualche piccola attività extra. Evitate però prestiti o anticipi. Non arrabbiatevi con chi non ha colpa. Cercate di essere più tolleranti perché potreste trovarvi al suo posto. Con il vostro pianeta d'elezione, Mercurio in transito nel vostro segno, state per concludere il mese per voi più bello, quando riprende l'attività, vi sentite utili, vivi e in perfetto stato di grazia, anche per quanto concerne la forma fisica. Urano, Giove e Plutone sono tutti insegni per voi congeniali. La salute, l'intelligenza e la grinta aggressiva per imporvi, non vi mancano davvero mai quest'oggi. Nonostante la luna e Nettuno all'opposizione seminino dubbi e sospetti, soprattutto riguardo al partner del quale, anche se non lo date a vedere, anche voi siete gelosi, la giornata scorre tranquilla e piena di soddisfazioni. A garantirvele innanzitutto Mercurio, sempre attento, pragmatico e razionale, sostenuto dai trigoni di terra inviati da Plutone, Giove e Urano. Ecco perché oggi, nonostante le ubbie della bianca signora viva hanno tutte dritte, è la luce della razionalità a distare idee strampalate e pensieri morbosi. Amore ed Eros Agli occhi del partner siete dei veri eroi e non solo ai suoi, in tutte le professioni a carattere sociale, legale, difensivo o politico, occorre fede nelle proprie convinzioni e coraggio nel portarle avanti, anche contro i detrattori specializzati in sarcasmo. Partner innamoratissimo, e voi di lui o lei, superate le antiche diffidenze e parlate di tutto, confrontandovi serenamente anche su argomenti scottanti. Seratina confidenziale, pregustando le prossime 48 ore insieme, giorno e notte. Se siete cuori ancora solitari, potrete approfittare di una sensibilità medianica nell'avvicinarvi a chi vi guarda già facendovi gli occhi dolci, specie se festeggiate il compleanno in settembre. La luna vi guarda imbronciata dai pesci, ma venere in leone vi rende appassionati e sicuri di voi stessi nel complicato mondo delle imprese sentimentali. Atmosfere invece particolarmente intense accompagnano chi di voi ha una relazione di coppia stabile, è possibile una scelta azzeccata di un luogo come un ristorante, dove riuscite a ricreare un momento di romance, che non assaporavate da tanto tempo. Marte e venere premiano le gesta di giovani avventurieri che non vogliono impegni sentimentali definitivi. Lavoro e denaro Orgogliosi dei risultati scolastici dei vostri figli, che studiano presso un'università lontana da casa, vi costano un botto, non solo in denaro, ma anche in ansietà. Tuttavia sentite di aver fatto la cosa giusta, perciò niente rimpianti, vorrà dire che appena troverete un aereo a prezzo scontato farete loro un'improvvisata, tenerli d'occhio infondendo loro sicurezza è vostro preciso dovere. Alla grande studi e affari anche per voi, sempre che l'emozione sul più bello non vi prenda la mano. Urano vi fa efficienti e insieme brillanti nella vostra attività di ogni giorno. Ed è così che vi vedono i colleghi e vi restituiscono lo stesso ottimismo, la stessa simpatia, che voi sapete regalare loro nel contesto quotidiano. Benessere Molto attenti, naturale per il vostro segno, sempre circospetto 365 l'anno, perfino quando il sole che spacca le pietre brucia i bacilli del raffreddore e degli altri migliaia di malanni. Figurarsi ora che col cambio di stagione, le pioggia autunnali e i mezzi di trasporto pieni le prime magagne tornano a galla. Denaro Siete uno dei segni materialisti dello zodiaco e potete a volte pensare più all'accumulo e alla conservazione del denaro, che al suo valore di puro mezzo e scambio. Per lei, anche senza tracce di rossetto sul colletto fiutate la scappatella, l'intuito non vi tradisce ma attente a non ingigantire le cose, un complimento o una battuta miciona non bastano per chiedere il divorzio. Per lui, discorsi nebulosi fatti apposta per gettare fumo, diffidati di promesse vaghe o troppo ghiotte per essere attendibili. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.